Allora siamo sempre a Fultani, questo si chiama questa piazza, piazza a voi, benissimo, piazza a Chiesa, abbiamo un altro suggerimento, nessuno lo sa, allora per l'altro suggerimento, piazza a mani bene a destra, ma le voglio, le vostre mani signore, forse, ehi, le mani forse. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.